Salve a tutti. Anche oggi aggiungiamo due tasselli fondamentali a quello che sarà la nostra prossima giunta. Il primo che voglio presentarvi è l'assessore alla cultura, Laura Ferraris. L'abbiamo scelta soprattutto per le sue esperienze fatte in ambito italiano in diversi settori culturali. Pensiamo che possa portare quelle che sono delle competenze specifiche, anche delle innovazioni tecnologiche, all'interno di tutto il nostro settore cultura. Noi pensiamo che sia fondamentale potenziare quello che è la cultura, innovare e portarla a un livello che sia europeo. Il successo di Parma nei prossimi anni passerà sicuramente da quello che sarà il nostro tessuto culturale, che si porta dentro un bagaglio, un patrimonio inesauribile. Quindi per noi è molto importante. Il secondo assessore che voglio presentarvi è quello all'urbanistica, all'edilizia, al patrimonio e soprattutto all'energia. La persona è Roberto Bruni, è un urbanista. L'abbiamo scelto per le competenze di riqualificazione e ripianificazione del territorio, ma anche degli suoi studi fatti in campo energetico. Noi pensiamo che sia la persona che possa dare un taglio diverso a quello che è l'urbanizzazione e la pianificazione di Parma. Noi insieme a queste due persone e agli altri che vi abbiamo presentato porteremo avanti tutti quei progetti che abbiamo già illustrato all'interno del nostro programma. Grazie a tutti.